Ciao bambini, ciao bambine, sono sempre io, Germoglio, il fratello più piccolo di Fiorello e Fiorellino. Anche questa settimana sono qui per presentarvi una taroccata, anzi, caraoccata, che è meglio. Un articolo per quelli che a scuola sono sempre impreparati. I caraocchiali! La lezione la leggete qui! Guardate, guardate voi perché io non vedo un tubo. Comunque, però, siete finiti. L'idea mi è venuta una sera guardando la televisione. Ma no, non guardavo il karaoke, guardavo Sanremo, che infatti è meglio non vedere. Allora, cosa ne dite? Che sei un cretino! Germoglio, alla lavagna! Scrivi 883 diviso 2, uguale? Non lo so. Perché non studi? La divisione degli 883 è uguale a un sacco di pubblicità, stai vedendo? E sai perché non lo sai? Perché non studi, non capisci, hai capito? Hai capito? Sì o no? Sì o no? Sì o no?